Che il Signore ci doni sempre persone dotte e sante come Santa Caterina da Siena. Lei ci insegna la vera sapienza e un po' la parola di Dio ci dà le coordinate. La vera sapienza è vivere nella luce. La vera sapienza è riconoscere che solo Cristo col suo sangue ci redime dal peccato. La vera sapienza ci mette in comunione con gli altri. La vera sapienza è riconoscere che quanto conosciamo ci è rivelato dal Padre, non viene da noi stessi. La vera sapienza è accogliere il gioco di Gesù, Lui che è mite e umile di cuore. E la vera sapienza è trovare in questo gioco il ristoro. Questa è la vera sapienza. La sapienza ci porta ad avere il gusto della vita. Qual è il gusto? Il gusto dell'amore divino. La vera sapienza è Cristo che ci ha rivelato il Padre per opera dello Spirito Santo. Buona missio.